Si trarà giovedì 8 novembre presso il Teatro Sociale Aldo Giuffredi Battipaglia il convegno Laudato Si, Ambiente tra Coscienza e Tecnologia. L'iniziativa, organizzata dal Comitato Cittadino Battipagliese per le Bonifiche, nasce dall'esigenza di trattare le tematiche ambientali in chiave tecnica, sociale e religiosa e puntare a comunicare ai cittadini lo stato di alcuni aspetti in materia. Parteciperanno all'evento numerose autorità scientifiche, politiche e religiose, fra cui l'Arcivescovo della Diocesi Salerno Campagna Acerno, Monsignor Luigi Moretti.